Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita Oggi siamo su Vermintide 2, siamo in compagnia anche di Mr. Adelric Salve a tutti, buon salve Un grandissimo ritorno e oggi andiamo a vedere due DLC Perché ho ricevuto questi due DLC, è un gioco che avevo preso, ha preso anche Mr. E ci siamo divertiti Sì, 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 è proprio divertente sto gioco, spaccone al punto giusto No, mi hai spinto giù No, l'unica cosa che ho capito e che mi sento di consigliare a questo gioco Solo se avete qualche amico con cui giocare, secondo me, perché da soli non rende tanto E è possibile giocare 5 classi diverse, adesso io ne ho una bloccata e non so perché E queste 5 classi poi vanno a sbloccarsi in altre due espansioni ognuna Quindi sono un totale di 15 Credo che tu abbia una classe bloccata perché ci sono io con quella classe Ah ok, è giusto, giusto Perché non ci possono essere personaggi doppi nel party Allora, io adesso ho preso la custode dei sentieri L'elfa Che attacca con la spada e con l'arco Non si può passare da un'arma all'altra E è possibile andare ad acquistare, diciamo, dei cosmetic per il nostro personaggio E a ogni fine avventura, in base a tutto quello che si è raccolto Si vincono delle casse, diciamo, con dei bottini E contengono all'interno nuove armi, nuovi potenziamenti per le armi Quindi è una sorta di card game, tra virgolette, quello sbustare, diciamo, dei card game Si, poi è possibile anche in realtà forgiare delle armi, diciamo Distruggendo quelle che non si utilizzano, quelle fuffa, diciamo Ed è possibile riforgiare o potenziare le armi che già si possiedono In realtà è possibile, siccome ogni arma ha delle caratteristiche specifiche Non lo so, per esempio, un aumento del critico contro gli scaven, ad esempio Piuttosto che un particolare tipo di nemico È possibile, forgiando di nuovo l'arma Far sì che quel particolare potenziamento cambi sia diverso Però è random e casuale Per cui a vostro rischio e pericolo, insomma, ecco Allora, i DLC che ho preso, che ho Allora, sono in totale mi pare 4 o 5 Ce ne sono un paio che sono quelli Se ti ricordi come si chiamano Sennò poi comunque li metto qua sotto in descrizione Sono essenzialmente delle mappe aggiuntive Con nuovi nemici e nuove ambientazioni Io vorrei capire, cambia missione Vediamo un attimo Allora, dovrebbe essere Ok, questi due qua sono Devrebbe essere back to Ubersrecht E che è questo? Ok, Shadow of Bogenhafen Ombre su Bogenhafen Come si pronuncia? Bogenhafen? Bogenhafen Sì Esatto Sono due DLC da 7,99 E ne proviamo uno dei due Allora, cosa facciamo? Bogenhafen ha un fogo nella corruzione Se solo ci fosse un coraggio Eh? Sì, sì, proprio quel Bogenhafen Ci facciamo questo No, se no l'altra ha bisogno di un favore Manufatto esplorando un'illusione di tempi passati No, dai, mi piace di più l'altra Bogenhafen La selezioniamo Ci sono anche missioni giornaliera Quindi Ci sono due cose La fossa O La mietipeste Sono due missioni Perché ogni mappa Poi ovviamente ha diverse missioni Facciamo La mietipeste A quanto pare Lo lascio fare Quando fate partita privata Vi prende dei bot Se no Va a prendere Potete giocare Guardami un po' È che ho mangiato pesante stasera Eh? Ah beh, giustamente E dove sei andato? Ah, di là Ok, ok Alla partenza della missione Ok, dai Andiamo Ce la giochiamo Spero il gioco vi piaccia È molto divertente come combattimento Bisogna anche avere un certo livello di cooperazione Soprattutto a livelli alti Qua siamo a livello base Quindi Non è così indispensabile Che ognuno faccia la La mossa Io lo trovo un gioco interessante Da prendere Comunque a piccole dosi Non è il gioco su cui passate magari sei ore ogni sera È bello con gli amici Magari vi prendete una Una sera Settimana Ed è bello fare poi tutte le missioni Ecco, immaginatevi una sorta di Left 4 Dead Però con ambientazione Warhammer praticamente Ecco Ambientazione Warhammer Fantasy E Con questa componente Per cui Bene o male Le vostre armi Le potete potenziare Praticamente Ecco Questa è una cosa che mi è piaciuta molto Poi i combattimenti sono proprio sfiziosi Oltre che le ambientazioni Ehi, buon anno Buon anno Che bello Siamo a Burgenhafen, ja E andiamo Arriviamo con la nostra Volkswagen Siamo per dirlo Guarda, guarda Sono gli ubriachi già in giro Guardali qua Guardali Guarda questo dove è finito da ubriaco Guarda questo Ma perché è tutto verde? Come hanno fatto a finire su là? Vabbè Eh, cosa Ecco Un po' di fantasia Vabbè Dai, andiamo Io posso attaccare da distanza Infatti È quello che farò Possiamo ottenere Fino a 5 oggetti Un paio di pozioni E le bombe Io sto andando a caso È la prima volta che vedo sta missione Sì, anch'io Io sono di settimo livello Tu sei di sesto, vedo Sì, tu sei sempre un nerd Rispetto a me su queste cose Soprattutto quando si parla di Un livello di questo tipo qua È niente Solo che le mappe tra l'altro Bisogna poi esplorarle molto bene Perché Ci possono essere Segreti, oggetti in giro Una torcia Minchia, c'è pure il buio Porca vacca Ok, io devo picchiare con una torcia Va bene Tanto fuoco per fuoco Via, avanti Gli altri due personaggi Come vi dicevo Sono gestiti dai bot Del Gestiti dal computer Scusi Non è che Uomo torcia Fuochista Dica Eh, vada avanti Io ho Delle frecce limitate Ne ho una trentina adesso E per ottenerne altre Le posso trovare dai nemici Alcune Una manciata Oppure In delle casse Ma io non voglio Tenere sta cavolo di torcia Rompi i maroni Oddio sta per arrivare Eccolo, eccolo Quello che ti cattura Eccolo, eccolo Eccolo Aia Stai giù Stai giù Brutta merdaccia Eccolo Lo sapevo io Vedete lì sotto Ci sono le frecce Che posso andare a prendere Adesso il gioco E' uscito Già da Più di un anno E onestamente Ve lo tirano dietro Quando va in offerta Perché l'ho visto proprio In offerta minima 6,99 euro Proprio Quindi direi Di Il prezzo La torcia è indispensabile Sì E tu sei Il tedofono Ma Uffa Io ho capito Che sono La maga del fuoco Però Ma no Vabbè Adesso No Qua non c'è Un kaiser Quindi? Eh Non lo so Sto cercando Accendete il bracere Tesori Ok Hai acceso il bracere Sta per arrivare Un'ondata Sì La musica è quella Eccoli Giù Giù Bruciate Sono Li trovo Veramente Animati Animate bene Le orde Mi ricordano Per certi versi Anche Days Gone Poi ovviamente Io sto facendo Abbastanza schifo Perché Dovrei passare Alla spada Soprattutto Adesso Che Ho finito Ui Pensavo Siamo i miei compagni Invece Dai Dentro qua Dentro Dentro dove Io non lo so Perché sono caduto Giù E non c'è più La luce Ah Eccomi là Ragazzi Oddio Mi venite in conto Che sennò Cado giù No Aspetta Ok Ok Grazie No Perché Non basta premere F In questo gioco Non ce la torcia Oddio Sbrigati Sbrigati Ok Qua vedete Fai il cell Prendo Guarda qua c'è un'altra torcia Piglia la torcia Che è l'arma più forte di tutto il gioco La torcia Ma è tutto così Accendi Accendi Aia Aia Uno scaven Maledetto Poi io non me ne intendo troppo di Warhammer ma E qua vedete una Pozione Vedete che adesso ne ho due Numero 3 Premendo 3 La pozione di cura Che è in gioco È possibile sostituire col kit di Cura Il kit di cura Può essere usato anche su compagni Mentre la pozione Invece è solo su se stessi E io sto esplorando un po' Skaven Allora praticamente qua ci si tratta Si tratta di Skaven E di Uomini del caos Ok Tra l'altro anche una fazione Che c'è su Total War Eccolo qua Questo è il kit Vedete ho lasciato La pozione Per curare Gli amici Ma anche noi stessi Quindi Forse cura meno Della pozione Vabbè adesso La vita Avete in basso Ecco la che mi hanno catturato Eh non vedo dove sei Ok Basta E' ora di Di giocare sul serio Vedete qua Può essere utile anche Una cooperazione con gli amici Soprattutto a livelli elevati Ripeto Perché uno magari Tiene la torcia O la butta in determinati punti E io sto attaccando Il nostro socio Perché non l'ho Non l'ho riconosciuto Uno tiene la torcia E tu Fai casino con I tuoi Giochetti di magia Esatto Adesso è il caso Che io dica Hai da accendere Eh no E' sparita la torcia Eh no Eccola qua No L'avevo buttata per terra Perché Ma qua continuano Poi ovviamente C'è tutta questa componente Che Bisognerebbe anche proseguire Sì infatti C'è C'è tutta questa componente Diciamo Di combattimento Quindi Ok A fine missione Si spacchetta Si prende l'esperienza Si guarda come Si è andati Rispetto anche agli amici Eh con A livello di Infusioni Di accuratezza E tutto Ma Oddio Questo qua di solito Lo uccidevo con le frecce Forziere Già aperto C'è buona La dedizione Ehm Allora Stavo dicendo Si combatte Essenzialmente Poi Si Ci sono quelle statistiche C'è Lo spacchettamento Però il gioco di base È Un combattimento In cooperazione Con gli amici Quindi se non vi piace Menare le mani Se non vi piace Sfidare le ondate Non è il gioco Che va per voi Un gioco che si avvicina Anche a Quello che abbiamo già visto Su Deep Rock Galactic Anche se Un pochino diverso Perché lì c'è anche Una componente Esplorativa Che qua invece Non c'è Perché qua si va Essenzialmente Ad affrontare La mappa Di qua Di qua Di qua Si va di qua Ok Oddio Io Di qua Io sto sentendo La marcia di scaven Frate Venite Poi ovviamente Se avete In squadra Un arciere Come me Potete Fare Delle figate Perché Li abbattete Dalla distanza Prima che arrivino Purtroppo Però Le frecce Sono limitate Ci sono alcuni nemici Che Oh Non abbiamo fatto in tempo Il ratling gunner Il ratling gunner Ecco la ratling È una generata A livello Di 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 nome Perché Uiuiui mi hanno Mi hanno preso No Non mi hanno preso Però A breve Ricomincerà il buio Perché ci devono andare avanti Ovviamente Ovviamente Lo saprevo Ovviamente Abbiamo preso L'unica missione Completamente Al chiuso In cui c'è bisogno Del cavolo Del Del cavolo Sì del cavolo Del Della torcia Ce l'ho Ce l'ho Ah ma stanno ancora arrivando Ma io appena fatto Piene munizioni Appena prendo la bomba Poi iniziamo anche a Scusi lei Ah ma qua salgono Come No ma ha senso Mi gioco la freccia Perché Avvicinato Si combatte Ah ma saltano giù Che da lì Che carini che ci sono Questi scaven Che portano torce Anche loro Ah In fasi più avanzate Potreste dover usare Questa parata Con un contraccolpo Ovviamente qua siamo In difficoltà semplice Ripeto Quindi Si può essere Molto Meno Precisimo Meno Accurati Si può combattere Un po' così Brainless Chiacchierando Amabilmente A livelli più elevati Invece ci vuole Proprio coordinazione Ognuno deve coprire Ogni entrata Quindi può essere anche Un Un ottimo livello Di sfida Per Giocare con gli amici Ehm Porca miseria Dove sono finite Tutte le torce Eccole Io ce l'ho in mano Andiamo Sì abbiamo proprio Ho scelto la missione giu Accendi fuoco Ok Ho scelto la missione giusta Proprio tutto al buio Però Ho trovato una bottiglia Di qualche cosa Divino Lo so Poi il problema è Quando giocate con gli amici Come lui Che Va in giro Andiamo avanti Andiamo avanti No scusate Sono tornati indietro Due chilometri A No vabbè Stavo guardando No 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 Ovviamente No perché c'è sempre Quello Che è il fanatico Del loot Il ninja looter E io sono Perché qua Chi loota Loota E non è che c'è La divisione Quindi bisogna anche Mettersi d'accordo E dire Pozione a chi serve Io adesso Non ho bisogno Perché sono comunque Perso forse un quinto Di vita Quindi Gioco sempre un po' Da paraculo Allora Qua ci sono Pozioni C'è nessuno che ha bisogno Di cura Alla sinistra Si vede la vita Di tutti Siamo tutti messi Abbastanza bene Allora aspetta Perché io Cosa c'è Giulia Una la bevo Ok Ma Perché il problema Del mio personaggio Ah Apri i cancelli Della Della cloche Cloche Si poi devo stare attento A queste cose Perché Poi Se faccio queste Classi In cui bisogna colpire Di precisione Poi le battute Si sprecano Come Indi hai Una Gran bella Mira Vai Ne ho mancati Adesso chiaramente Ci sarà L'ondatona L'ondata Abbiamo acceso Tutti i braceri No Mi metto in alto No Mi metto in alto Perché arriviamo dall'alto Allora Fin che posso Rispondo con le frecce Poi Arrivano su ogni verso Non c'è il fuoco amico Se non l'ho già detto Almeno quello Si Non credo Che a livelli più alto Ci sia Niente Si passa alla spada Spada che ho preso da poco Veramente Beh no Insomma Guardate che possiamo già passare Il cancello Ah ok Ogni Spacchettamento Che si fa a fine livello All'interno di ogni cassa Si trovano oggetti utili Alla propria classe Credo Non escono cose Per altre classi Ovviamente Cambiando classe Il livello Riparte da Uno Spacchettamento Spacchettamento Ho dato fuoco Un po' a tutto Eh no Poi tu mi pare Che la tua classe È totalmente Tu mi trovate due Fino adesso Le trovate comunque Essenzialmente diverse Sì Le trovate Molto diverse Io sto morendo Perché sono esploso Ho usato troppo fuoco Ah ok Il bello è che io Non ti vedo Perché ti rianimo Ok Grazie Così vinco anche il premio Delle rianimazioni Che non ho mai vinto Aspetta che mi curo Ok Ci siamo E di solito Quello che muore sono io Con Come sto andando Male Vai Ma che due balle Ti hanno rapito No no Non mi hanno rapito È che Non ho il tempo Di fare una cippa qua Cioè io sono Una maga del fuoco E non sono in grado Senza una torcia Di accendere Il fuoco qua Cosa Scandalosa Inaudita Allora Ma quanti sono Stanno andando un po' A chi stai dando le botte All'aria Io Io continuo a parire Continuo a cliccare Sul mouse Non trovo più la torcia Ce l'ho io Ma quindi Vabbè Ok Quanto dura ogni partita Se questa può essere La domanda Una mezz'ora Siamo presso a poco Sulla mezz'oretta Dipende Ha difficoltà facile Ha difficoltà difficile Vabbè Se si muore tutti Mi sa che si perde Si ricomincia Quindi è Un po' come i ride Sui morg Accenda Accenda Mago del fuoco Dimite che ho bisogno Della torcia Aspetta che qua ci sono Delle scale Che non abbiamo neanche visto Si ma qua è un vicolo cieco Sono giusto entrato qui Per vedere Se c'è qualcosa Ma Niente c'è Lì c'è Dell'acqua Che scende Che spegnerà La torcia Si ma siamo all'esterno Oh finalmente Porco cane Avevo tre farecce E due le ho buttate Però la terza Ok Finalmente Riusciamo a rivederla L'una Chi è stato catturato Chi è stato catturato Non io Ah però è tutto in luce lunare Verde Allora Aspetta perché qua Si può scendere Ci sono delle pozioni Ma io non ho ancora usato le mie Però ho preso una bomba Di cura Tu vai tranquillo Che qui Ci penso io Ah sei già su Ok Devo trovare il momento giusto Per lanciare la bomba Quando ce ne sono tanti Voglio provare la parata Cioè non c'è un proprio modo Di Di avere un nemico contro La parata ovviamente Ha dei colpi limitati Una sorta di Di fiato Ok The big city Tenendo premuto Poi mi fa Il mega colpo Io proprio Eh beh Oh cavolo Ui 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 Quante Niente è arrivato il momento No dai Non ancora Non ancora Ma anche si Bomba Bomba E se erano già morti Vabbè insomma Ha fatto anche la sua bella figura Anche la bomba Ok adesso mi devo un po' raffreddare Per cui Ah e comunque devo dire Abbiamo provato quante tre mappe Finora Tre quattro Tutte diverse Tutte molto interessanti Perciò ogni mappa Vai Stigio Vai Un gioco che tiene incollati Per lo spacchettamento Per trovare sempre Il pacchettamento Sembra più potente Le nuove Sottoclassi Da sbloccare Più che alto Più che sottoclassi Classi di prestigio E Niente E Poi si spera Anche contenuti aggiuntivi Mamma mia Che 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 macello Dove bisogna andare Mo Aggiungi Drake Che plazzo Ja Ah qua c'è una pozione Che bello Mi serviva Si va di qui Abbiamo fatto un allegro giro Intorno a questa piazza Ok Ma ma Quella è una freccia Ve l'ho tirata nel ginocchio Io no Ok Ok Suppongo qua in cima Mamma mia Non vi ho fatto vedere La super mossa Che non l'ho ancora usato Sono un pirla Perché non me lo ricordavo C'è una barra Che è quella viola Che si ricarica Quando arriva al massimo Potete usare la super mossa Tu hai il teletrasporto No? Quello che mi hai fatto vedere Sì io ho quella sorta di coso Bomba O incendiaria O bomba Vabbè tu hai preso l'incendiaria O la bomba Io invece ho questa sorta di freccia Magica Che rimbalza su 3-4 nemici vicini Facendo tanto danno Ma come ho detto Non C'è la rattling? Cazzo Sì È lì eh Vabbè Ma Vabbè Appena carico la La super mossa Vado a occuparmi Della rattling Se non l'hai già battuta Fatto Fatto Sì Con la soddisfazione Di Ui 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 Questo è una stregone Ok Sta risalendo anche Abbastanza rapidamente La barra Della super mossa Quindi Eh Non so dove dobbiamo andare In alto In basso Aia Eh Stanno iniziando Anche a farmi Discretamente male Suppongo in alto Eh Questo Guardo Dio Anch'io Hafenstrasse Si si scavalca di là Cavolo Logre Ok Super mossa E questo è un boss E non ho neanche le faricce Ma non ci sono delle faricce qua Ma come cavolo si fa qua Eh Ci ha buttato di qua Adesso prenderò in corsa What's up Aio Beccati questo Aio Aio Ma non c'è qualche Porco cane E' pieno di Uuuuhuhu E' pieno di Jount Premendo Aos Più lo spazio Si fa La schivata Laterale Oh cavolo Poi ho decantato Tutto il tempo Che eravamo in difficoltà Facile Poi magari Ci lasciamo Che le penne Scusi Mamma mia Che botta Che ho preso E ci sono anche là Quelli Che non ci hanno visto Eh Con calma Con calma Non ne usciremo Facili qua No con calma E' morto No il tipo No Non ancora Però Adesso E' il tempo Della super Ok E' andato E' andato E' andato Pozione Ok Adesso diventa A giorno Per qualche istante Che ho brutto La pozzoncina Siamo riusciti a prendere Anche Un dado Un dado Aumenta Il loot Il loot finale Ecco Il loot finale È più bello Dirigiti Verso La scalinata Di Bogenauer Dove? Eh La scalinata Sono tutta una scale Qua Di là forse Boh Io sto provando No no Sì Lì credo Perché ho visto Che c'era gente lì Che sono rimasti Di spalle Per 40 minuti Mentre noi Combattevamo Ah Io sono ancora Senza frecce Non ho ancora trovato Hanno rotto i maroni Via E dai Ok Della serie Fai un po' giocare Anche gli altri Eh vabbè Ma io da distanza Se posso Faccio Molto bene Dove Andare di là Mi sa Però Si può anche esplorare Bombe Eh io ce l'ho ancora lì Qua torno indietro Forse no Cassa Tu dici Si che si torna indietro Si si torna indietro Da lì Oh Pozioni Eh si infatti Si torna in Da io Oh Hai trovato Un frammento Di arte devastata La prendo anch'io Che quello Aumenta sempre La possibilità Di avere Il loot Più alto Alla fine Si deve salire Dalla scala Eccolo qua Scalinata Di Boganau Sto cercando La scala E' lì Ah eccola Andiamo Andiamo Buona lì Ok Saliamo 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 Ma Qua è chiuso Di qua Di qua forse Ma Farecce Ho un patrimonio Di tre farecce Raggiungi il cancello Del grande tempio Dove ci sarà Lo scontro finale Immagino Ok I fondamenti Medici E lasciargli La pozione Ci sta Tre frecce Qua E' c'è 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 Cosa stia succedendo Ok Qui ci sono Altre frecce Un equipaggiato Una bomba No Vabbè Ok Scale Sto salendo Di qui Magari Il fatto che ci siano Nemici Mi fa Intuire Ad essere La Donna giusta Un gunner Porco miseria Uh Che sta per esplodere Ok La botta Alla botte Un colpo al cerchio E uno alla botte Allora Prendo qui Andiamo avanti Mi hanno rapito Dove sei Dove sei Eccolo No C'ho già pensato Il mio amico Nano Ehm Vabbè Oddio Che bello Rappo Ok Colpo alla testa Funzionato Intanto io sono rimasto Leggermente Nel retro Vieni avanti Vieni avanti Ma mi Ma mi destreggio Con destrezza Mamma mia Quanti Langenstrasse Eccolo lì Dovremmo essere Arrivati Immagino Pozioncina Perché sono a metà vita Ok Penso sia anche Il momento Magari di usare la super mossa In attesa che poi Mi si ricarica Per momenti più Con citati Ok Intanto Continuano Quei botti Ma quando Dove cavolo L'uscita Eccola 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 L'ho trovata Credo Credo Quindi Bisogna resistere No Eh si Hai da accendere Quindi Eh Queste cose sono forti Mi sa che usiamo la super Oh le Ma Andiamo Adesso mi tengo anche la bomba Quindi qua cosa dobbiamo fare Trova padre Kraussman Perché la porta è chiusa E quindi Quindi bisogna andare dal padre Che ha la chiave Quindi bisogna andare avanti Da qua allora Ah si Vabbè Sì Sì Allora E' una messa La corruzione sta spiegando Vabbè Dove sarà il padre Kraussman Oh Aspetta 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 Cosa c'è qua E c'è un barile C'è un barile Ma ma ci si perde in sto posto Di là di là di là Pozione Gunner Dov'è Bisogna salire Siete molto impegnati voi Va bene Mi hai convinto Andiamo Ah ma aspetta Il problema è quello No no Ma chi se ne frega Ah no Ok Andiamo Tanto se è ancora in giro Si farà vedere Dov'è Ma Le chiavi Ah ok Adesso possiamo andare al cancello Andiamo Sento Sì Non è una bella cosa Con le munizioni Ok Siamo al tempio Cioè abbiamo scavalcato Metà città Scavalcato il cancello No ci serviva la chiave I sorci qua Come sono entrati No ecco Se ti mettono tutte queste pozioni Vuol dire che la cosa non è bella No buono Da qua eh Eccolo lì La vedi Quella sarà la nostra arena Di combattimento Probabilmente Trova il modo Per entrare nel sanctum Vabbè Intanto Vabbè Andiamo su Il classico Libero Passaggio segreto Ah 5 interruttori Nascosti Bello No Non è bello Sta arrivando Anche gente Ne ho trovato uno qua Aspetta Io no Non ne ho trovato mezzo Però vabbè Ah ma ci sono Sono anche più piani Ahia Sono un po' Circondato Quante ne hai trovati Nessuno Eccone la uno Ma come li vedi Eh perché vengono fuori Gli scudi Ah ok Ok Sì allora Quello lo vedo Anch'io Tira Questo punto Andiamo sparati Cioè non ce ne sono Bisogna fare un po' Di tizi qui A dove vanno Tutti Di fa E stanno Scusate Ma siete un po' Cazzo Via Ah ok Ma quanti ratri in ganci sono Non posso più sparare Eh beh Ok eccolo giù là Stai già andando tu Vai che ti copriamo noi Poi già divertente in due Poi immaginarsi in quattro Quanti ne mancano Tre ne abbiamo fatto Sì Andiamoci corto Dai che avrei riuscirà Anche il Il prossimo Eccolo su là Qualcuno vada Ci sono ci sono Vado Cosa è questa? Vorrei poter correre Più di così Ma non si può Cazzo Ok manca il quinto Eccolo No è pieno di sopra Sì sì Ce l'ho Ce l'ho Ci sono Eccolo qua Uno l'ho preso anch'io E mo Si è aperta la porta No Alla porta Ma almeno Alla porta Ma alla porta È chiusa Apriti Bastarda Prendi la mia Tipeste Prendo io Le pesa tu Andiamo All'uscita All'uscita Lascia il grande tempio Andiamo Andiamo Fuggite I giochi Di qua Di qua Anche se gli altri due Restano dentro Chi se ne frega Sta diminuendo la vita Bisogna andare via Cavolo è vero Vabbè ma siamo arrivati Dai dai Non posso immaginare Difficoltà alta Come possa finire Ma questo Veramente sì Ottimo Molto bene Ce l'abbiamo fatta Adesso Adesso Questa era solo Una missione Di ombre Su Bogen Cosmi Sì esatto Di Volkswagen Esatto E ce ne sono Una serie Ed è tutto Il DLC Quindi non è che È solo questo livello Il DLC Allora Ho sbloccato una carriera Nuova Ancella Vediamo un po' Ho vinto Screigno Voglio vedere le statistiche Poi spacchettiamo E vediamo Allora Missione compiuta Un dado bottino Regalo di Ranad Non abbiamo preso Il tomo E il grimorio Eh ma Quelli sono i più difficili Da trovare E non abbia Che fatto la partita veloce Perché era una personalizzata Allora Io sono stato il migliore Nei colpi alla testa E Rianimazioni Una Colpi alla testa 161 Tra l'altro Come? Te Tra l'altro Me tra l'altro Esatto Tu hai fatto Il doppio delle mie uccisioni Quasi E Sono stato anche peggio Di un bot Ah no no E lì tu uccisi E siamo lì No cosa dico Cosa dico Guardavo Kruber Invece sei Mr. Derek Allora Hai fatto Un bot Tutto Più di me Eh lui È Il personaggio Eh no vabbè Colpi alla testa Iguali 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 161 Ho fatto Niente C'è proprio schifo Vabbè Torno alla fortezza Vado a spacchettare Anzi magari intanto Guardiamo anche La nuova Vediamo se c'è la nuova classe Sbloccata Eccola qua Sì infatti Abbiamo la nuova classe La danza delle stagioni Ah no Custode e ancella Ok Ancella Ah Danza delle stagioni Anziché Quest'abilità qui Che gli ho messo Che rigenera Tre di salute Ogni dieci secondi Quando la salute Meno alla metà Infatti per quello Mi curavo spesso No Danza delle stagioni Niente Scatta velocemente In avanti Invece che la raffica Di frecce Vabbè Intanto io mi tengo Quella classe lì Vado a spacchettare Così vi faccio vedere Anche come funziona Sono due pacchetti Oddio Ho trovato Impresa del valore Che cos'è Ok ci sono Missione La campana stridente Difficoltà recluta Tre loot bianchi Che non sono niente Di nuovo Niente di Di raro Insomma Tutta roba comune Importante è trovare Il verde o il blu E no E' tutto bianco Quindi sto trovando Solo roba normale Peccato L'altra volta Mi è andata meglio E poi possiamo andare A equipaggiare Con il tasto I Cambiare la dotazione Appunto delle armi Dei Dei talismani Insomma E ogni tot livelli Al 5 10 Multipli di 5 Si va ad aggiungere Un talento Io al momento ho preso questo Che è quello che appunto È la cura Alla salute La creazione Ci permette di creare Varie cose O distruggere Come diceva Prima minister Distruggere Si ottengono Dei materiali Che vengono usati Per il crafting I bottini di guerra Li abbiamo appena svuotati E direi Che abbiamo Completato Una delle missioni Del Del DLC Che vi portavo Quindi DLC Ce ne sono diversi Ne sono usciti 4 o 5 Mi pare Adesso io ne ho due Che sono questi due Che vi ho letto All'inizio In questo caso Vedete Ombre su Bogenard E Ubers Strike Poi in realtà Queste Venti della magia È un altro Ancora Che è quello che è uscito Agosto di quest'anno Mentre C'è Elmgard Che è il gioco base E anche La maledizione Di Drakenfels Voglio solo Vedere una cosa Per concludere No Sono solo Queste due missioni Nel momento Ad esempio Se andiamo invece Sull'altro DLC Che ritorna Ubers Strike Ce ne sono Tre Di cui Una bloccata Bene Qua invece Sono Bello Elmgard Sono un botto Perché è il gioco principale Quindi guardate Quante mappe ci sono Quante missioni ci sono E l'altra La maledizione Sono tre Alla fine Quindi Molto ampio Molto interessante Come gioco E divertentissimo Con gli amici Poi c'è un'espansione Che ancora non abbiamo Ma di cui In realtà Non parlano Straordinariamente bene Sì sì Quella che ho fatto vedere Venti di Sì 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 Venti della magia Sì Sì E chissà Ecco Niente Io ringrazio Mr.Dellerick Per essere stato qua Con noi Ma grazie a te Mi ha fatto solo Che piacere Spero il gioco Vi sia piaciuto Sarà venuto un video Lungo Se non ho deciso Di spezzarlo in due E quindi Io vi ringrazio Ringrazio Poi la ministra E alla prossima Ciao ciao Alla prossima